Il Consiglio regionale ha approvato col voto favorevole della maggioranza contrari Lega e Fratelli d'Italia e l'astensione del Movimento 5 Stelle una proposta di risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta e i risultati conseguiti dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2020 L'atto ribadisce anche l'impegno a contribuire attraverso tale organo ad assicurare la finalità rieducativa della pena e il reinserimento sociale dei condannati Il Consiglio regionale ha approvato la relazione sull'attività annuale del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà Il Dottor Fanfani, il nuovo garante per i detenuti della Regione Toscana ha illustrato nella prima commissione l'attività nell'anno 2020 mettendo in luce tutta una serie di aspetti importanti collegati al sistema carcerario detentivo della nostra Regione Lo ha fatto evidenziando come la Toscana sia nella media nazionale quanto al tema dell'affollamento degli istituti penitenziari ci sono alcuni istituti penitenziari sovraffollati altri invece che sono in ipoaffollamento però la Regione Toscana rientra nella media nazionale Si è molto riflettuto anche sulle due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza le due REMS che abbiamo in Toscana quella di Volterra e quella di Empoli e anche di tutte quelle misure che vengono adottate anche in altri luoghi di detenzione che sono restrittive della libertà personale Si pensi soprattutto ai servizi che operano il contenimento collegati ai TSO ai trattamenti sanitari obbligatori o ancora alle RSA o le RSD quando diventano comunque luoghi nei quali viene scontata una pena Tutto questo ha bisogno anche di dotazioni adeguate e infatti nella relazione resa dal garante c'è un'attenta disamina anche delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari della Regione Toscana e anche degli altri luoghi di detenzione come ad esempio le Camere di Sicurezza istituite presso le Forze dell'Ordine Un rilievo particolare merita la figura del garante per i detenuti a livello comunale c'è un invito da parte del garante regionale a far sì che tutti i comuni indichino il loro garante comunale per garantire al meglio l'operatività e il raccordo tra i livelli locali e il livello regionale Dal mio punto di vista arriveremo alla soluzione ottimale quando ci sarà un garante non solo per i detenuti ma un garante anche per chi opera nei carceri la visione onirica del garante dei detenuti su una certa criminalità reversibile sul far riferimento a delle premesse di carattere sociale non ci piace lo dico chiaramente sono convintamente assertore di quella che anche per la dottrina giuridica è la concezione neoritributiva della pena che vede nella pena la sanzione penale la sanzione per colpire l'autore del reato e che con il suo male ha creato un illecito quindi un qualcosa a cui la società deve rispondere chi sbaglia paga la lega su questo è molto chiara lo è sempre stato c'è il problema delle carceri che occorre affrontare con provvedimenti come un nuovo piano carcere quindi si impegna il garante anche in questa direzione di suggerire che si torni anche in Toscana a parlare di un piano carceri questa concezione ripeto molto nebulosa e molto vaga soprattutto dal punto di vista intellettuale non mi piace massimo rispetto per la figura di Giuseppe Fanfani che ammiro nella sua professionalità nella sua storia ma ovviamente per quanto riguarda le carceri noi siamo veramente proprio di un'altra visione delle cose quello che noi abbiamo contestato alla relazione del garante per i detenuti è il continuare a voler interpretare il rapporto tra istituzioni e carcere soltanto parlando con una delle due anime che vivono e che devono convivere all'interno del carcere noi abbiamo chiesto al garante di impegnarsi di più sul fronte anche dei rapporti con la polizia penitenziaria che oggi sono completamente assenti e leggere che un garante dei detenuti operi soltanto in una direzione e non coinvolgendo entrambe le anime che per la vita del carcere non perché siamo a giocare una partita di calcio e ci sono due squadre differenti ma i carceri abbiamo visto abbiamo visto anche quei casi di malfunzionamento che abbiamo avuto negli ultimi anni funzionano quando le due anime quindi quella dei detenuti e quella degli operatori di polizia penitenziaria convivono all'interno e si aiutano anche reciprocamente nella vita del carcere il garante noi lo interpretiamo come una figura che vada ad avvalorare questa cooperazione e non che faccia l'avvocato difensore di una parte contro l'altra magari percependo la parte della polizia penitenziaria quasi come fosse una controparte contro cui dover combattere una guerra quotidiana non è questa la figura che a noi piace è per questo che ad oggi non siamo ancora convinti dell'operato del garante Fanfani un'iniziativa importante quella di tutelare coloro che sono nelle carceri ricordo bene un lavoro svolto negli anni precedenti quando anche da Presidente della Commissione di Sanità ho introdotto e agito per tutelare la condizione di salute e di vita di coloro che sono detenuti nei nostri carceri con delle visite costanti ma anche con iniziative e questo lavoro sta proseguendo e credo che sia un dovere delle istituzioni toscane essere presenti anche nelle carceri e ricordo la questione del carcere di San Gimignano dove siamo stati in grado fondamentalmente anche dal nostro osservatorio di incidere rispetto al ripristino le condizioni anche di legalità all'interno delle carceri Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione che chiede di indirizzare un adeguato livello di risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lo sviluppo delle aree interne almeno proporzionale al peso che tali territori rappresentano complessivamente per la Toscana ovvero circa un terzo dell'estensione complessiva del territorio regionale La risoluzione chiede impegni per tener conto nelle sei missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di progetti volti a favorire l'inclusione e il superamento delle disuguaglianze territoriali e di definire le condizioni e gli interventi per rendere possibile il ripopolamento dei borghi montani Il Recovery Plan è un'opportunità storica per il nostro Paese ma è un'opportunità storica anche per affrontare il tema della disuguaglianza tra i territori tra i centri urbani e le aree più periferiche Da questo punto di vista il Recovery e l'esame che abbiamo fatto in Commissione presenta molte opportunità il Piano Nazionale dei Borghi la questione della connettività il rilancio dell'attività turistica un nuovo modello di sanità territoriale noi per raggiungere questi obiettivi e per intercettare queste risorse abbiamo innanzitutto delineato per la Giunta regionale un obiettivo se in Toscana nelle aree interne è concentrata un terzo della popolazione regionale l'obiettivo che ci dobbiamo porre è che un terzo delle risorse che arriveranno in Toscana dal Recovery Plan siano destinate alle aree interne è un obiettivo ambizioso ma un obiettivo necessario e per raggiungerlo abbiamo delineato due obiettivi di medio termine il primo la Regione si deve strutturare per dare una mano ai comuni perché senza progetti non si intercettano i finanziamenti quindi noi chiediamo alla Giunta al Presidente di strutturare un'unità di missione un coordinamento che faccia da punto di riferimento su questi temi in regione per le province e i comuni della Toscana ma anche per i progetti che dovrà presentare la regione l'altro se i comuni e soprattutto i più piccoli ci dicono abbiamo difficoltà di bilancio nel finanziare l'attività di progettazione questi comuni rischiano di essere tagliati fuori da questa opportunità e quindi occorre come regione mettere in campo un fondo per sostenere l'attività di progettazione perché appunto queste risorse non è che verranno paracadutate sui territori verranno intercettate dai territori se ci saranno dei progetti e quindi noi dobbiamo mettere in condizione la regione e gli enti locali di avere progetti chiari definiti e avanzati per poter intercettare questa opportunità che veramente è di portata storica per il nostro paese oggi abbiamo assistito all'approvazione il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione che chiede di investire parte dei soldi che arriveranno dal recovery fund in Toscana anche nelle aree interne della Toscana mi fa piacere che all'interno di questo documento sia stata recepita una proposta del collega Veneri e del gruppo di Fratelli d'Italia che chiedeva di investire anche per il superamento del digital divide io continuo a sostenerlo da tempo una regione degna di tale nome che vuol guardare al futuro vuol pensare di affrontare le tematiche importanti del futuro non può pensare che ancora oggi esista all'interno del proprio territorio esistano aree differenti da un punto di vista della copertura digitale cioè oggi siamo in una situazione per la quale due bambini che nascono oggi che vengono alla luce nello stesso istante uno che nasce in una città importante uno che nasce in un comune magari montano magari di qualche area interna per tutta la vita avranno opportunità differenti non avranno le stesse opportunità non potranno mettersi in gioco alla pari sfruttando le stesse opportunità e questa è un'ingiustizia che non può essere accettata in una regione che guarda al futuro siccome i soldi del recovery fund non sono soldi che ci vengono regalati e questo è bene che anche i nostri colleghi della maggioranza se la mettono bene in testa perché abbiamo sentito tante volte dire eh ma abbiamo questi soldi da spendere no abbiamo questi soldi da investire perché 360 miliardi dei 750 che arriveranno andranno restituiti all'Europa da ora al 2058 quindi o si fanno investimenti che da ora al 2058 riportino sul territorio dei fondi che servono poi a restituire anche questi soldi oppure ci andremo a indebitare e quello che oggi sembra un regalo un domani potrebbe diventare un incubo approvata all'unanimità dal Consiglio regionale una proposta di legge presentata dai consiglieri del Partito Democratico che va a rafforzare i compiti dell'Osservatorio regionale della legalità istituito con legge regionale 42 2015 l'Osservatorio nasce con l'obiettivo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza anche sotto forma di infiltrazioni delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata con la legge approvata in cui sono stati inseriti anche alcuni emendamenti proposti dalle opposizioni i compiti dell'Osservatorio si estendono anche all'analisi delle cause principali dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare della corruzione dell'usura dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale Il Consiglio regionale ha all'unanimità approvato le modifiche alla legge istitutiva dell'Osservatorio regionale e della legalità una misura importantissima che vuole rendere operativo un organo l'Osservatorio che ha la funzione di raccogliere informazioni circa tutte le forme di criminalità organizzata di stampo mafioso che possano eventualmente penetrare nel territorio toscano ma un Osservatorio anche che ha come obiettivo quello della diffusione della cultura della legalità con la nuova legge si sono andate a puntualizzare le funzioni dell'Osservatorio si sono andati a indicare più compiutamente coloro che devono entrare a far parte di questo Osservatorio garantendo che l'Osservatorio possa essere operativo anche con la sola presenza dei soggetti individuati dagli enti pubblici e soprattutto si è resa operativa e visibile l'azione dell'Osservatorio attraverso l'indizione di una conferenza annuale organizzata con il Consiglio regionale per discutere dell'attività svolta dall'Osservatorio un momento di confronto e di dibattito aperto al pubblico che ha come scopo principale la diffusione della cultura della legalità e l'accessibilità di questo importante strumento di cui finalmente andrà a dotarsi la regione toscana per promuovere la cultura del rispetto delle istituzioni e della lotta alla criminalità organizzata sapete bene che ho il tema della lotta contro la criminalità organizzata particolarmente a cuore sono stato tra i primi a presentare in questa consigliatura degli atti specifici non possiamo che essere a favore di tutte le proposte che vanno a migliorare la lotta contro la criminalità organizzata in questo senso occorre interpretare questa proposta di legge sull'osservatorio della legalità che va a migliorare le funzioni a incrementare le funzioni e anche a dare una nuova composizione e al tempo stesso attiva la commissione sulla lotta contro le infiltrazioni e la criminalità organizzata preseduta dalla mia collega Elena Meini sono certo che più strumenti abbiamo più possiamo fare bene c'è molto lavoro da fare come purtroppo certe inchieste dimostrano in modo inequivocabile e quindi cerchiamo di dare ciascuno di noi il nostro contributo ci sarebbe piaciuto essere più coinvolti nel miglioramento della normativa sull'osservatorio della legalità purtroppo a volte la maggioranza procede di fretta perché si rende conto che ci sono evidenti problemi anche in Toscana è un po' in questo senso che leggiamo ad esempio anche un preambolo piuttosto scarno e il nostro sarà un voto a favore sperando che anche alcune nostre idee possano essere accolte uno strumento importante a servizio della Toscana che integra le funzioni istituzionali con quelle delle amministrazioni comunali con quelle delle forze dell'ordine al quale abbiamo chiesto di fare parte di questo organismo oltre che le associazioni che lottano nel territorio contro le mafie quindi è un luogo comune di lavoro dove si condivideranno politiche dove si faranno azioni congiunte e credo che sia un baluardo importante delle istituzioni al cospetto della criminalità organizzata e delle mafie ci fa piacere che dopo due mesi circa da quando il partito democratico bocciò la proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione permanente antimafia si sia rimesso umano una legge che regolamenta l'osservatorio per la legalità due mesi e mezzo fa ci sentimmo dire in aula che non dovevamo toccar niente perché la maniera in cui la regione toscana affrontava il tema della legalità era perfetto salvo 24 ore dopo assistere all'inizio dell'indagine della direzione distrettuale antimafia di Firenze l'arresto di 23 persone il sequestro di 22 mila euro di capitali legati all'andrangheta allora forse evidentemente si sono accorti che non stavano facendo tutto e ben venga questa revisione dell'osservatorio adesso però che venga fatto funzionare che venga reso attivo nel più breve tempo possibile Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana una risoluzione proposta dalla Commissione Cultura che impegna la Giunta ad attivarsi quanto prima nei confronti del Governo e del Parlamento affinché vengano attivate misure di sostegno diretto ai docenti delle università americane in Italia e più in generale al settore dell'International Education molto colpito dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 e fin qui rimasto escluso dai provvedimenti governativi di ristoro Nel testo dell'atto di indirizzo viene sottolineato come sia strategico il settore delle università americane che alimenta un indotto stimato in circa 800 milioni di euro e fa riferimento alle audizioni svoltesi in Commissione Cultura inizio maggio con le associazioni sullo stato di crisi del settore dell'International Education in Toscana La quinta commissione ha presentato un atto in consiglio regionale oggi una risoluzione per aiutare e sostenere un mondo di imprenditori di dipendenti che finora è rimasto fuori da ogni meccanismo di aiuto da ogni provvedimento di aiuto e sostegno si tratta del settore dell'educazione internazionale dell'International Education Università Americane Scuole di Italiano per Stranieri istituzioni generatrici di indotto anche turistico perché poi si trattava di scuole e centri di formazione che attiravano studenti da tutto il mondo e che al momento sono rimaste completamente a zero e senza poter esercitare la loro attività senza utenti che invece stanno pian piano tornando è un settore che impiega moltissimi insegnanti precari di un mondo di istruzione che però non è percepito dalle nostre istituzioni della scuola e dell'istruzione e sfugge anche alle dinamiche dei sostegni alle imprese ci sembra un settore da aiutare è un settore che ha in Toscana numeri rilevantissimi tra Firenze e Siena ci sono le due città in Italia che raggruppano più centri più scuole internazionali dopo Roma e quindi diciamo che è un settore che caratterizza moltissimo e dà identità al nostro territorio ci sembrava importante prevedere e favorire un aiuto a questo settore a tanti dipendenti a tanti insegnanti che sono rimasti appunto senza poter lavorare sperando di poter avere questo settore di nuovo attivo e capace di attrarre un turismo di permanenza di visitatori che diventano cittadini temporanei e contribuiscono alla internazionalizzazione del nostro territorio presentato in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso il bando di concorso per videomaker intitolato Toscana in spot 2021 ritorno al futuro indetto dal Corecom per il conferimento di premi ai migliori spot video realizzati sul tema della Toscana che vorremmo vedere nel 2050 l'obiettivo dell'iniziativa è consentire soprattutto alle nuove generazioni di esprimere la propria visione dello sviluppo della regione dal punto di vista sociale culturale economico e ambientale a venire premiati saranno i tre migliori spot audiovisivi realizzati da videomaker e autori residenti in Toscana al vincitore del concorso spetteranno 5.000 euro mentre al secondo e al terzo classificato andranno rispettivamente 3.000 e 2.000 euro sono molto contento di essere oggi qui insieme a Dentro Brogi per lanciare un'idea che ho a cuore quella di provare a raccontare attraverso le lenti gli occhi dei ragazzi e delle ragazze più giovani dei 16 anni 17 anni 18 anni la Toscana del futuro la loro Toscana la Toscana del 2050 bene questa iniziativa in cui i ragazzi potranno raccontare attraverso un breve video come vedranno la Toscana di domani dal punto di vista artistico culturale per quanto riguarda i temi legati all'ambiente per quanto riguarda le grandi infrastrutture del nostro territorio il rapporto tra uomo macchina un'iniziativa che pone i ragazzi al centro noi ci siamo sempre detti che questo luogo deve essere il luogo per dare voce a chi ha meno voce i ragazzi oggi hanno bisogno di potersi esprimere e di tirar fuori tutte le loro potenzialità sono tante e possono davvero lavorare insieme a noi per costruire la Toscana del domani quest'anno lanciamo un tema che consideriamo importantissimo come i giovani di oggi vedranno la Toscana del 2050 noi siamo convinti che alcuni valori che abbiamo come quelli dei diritti del rispetto degli altri della comunicazione democratica e corretta si mantengono ma molte cose cambieranno cambierà il modo di comunicare cambierà il modo di viaggiare cambierà il modo di portare le nostre merci e soprattutto vedremo una Toscana molto diversa e allora ce lo devono raccontare con semplicità con fantasia perché la fantasia è la cosa più bella più ricca assieme all'immaginazione che abbiamo e su questo auguriamo ci auguriamo che tanti giovani partecipino a questo bando si apre adesso si concluderà ad ottobre vorremmo che tanti studenti presentassero con un telefonino con una telecamera con una macchina fotografica uno spot che ce la racconti al meglio la nostra Toscana tre premi 5.000 3.000 e 2.000 euro un bel risultato tanta partecipazione e tante idee per una Toscana migliore che speriamo che tutti noi ce la raccontino nel modo più bello possibile grazie a tutti Grazie a tutti.